Ragazzuoli prima che inizi il video velocemente voglio dirvi che è ufficiale adesso ogni sabato ci sarà un video che sia vlog che sia prank comunque di questo genere è E a volte anche il martedì se faccio in tempo se riesco anche a registrarlo perché non sempre il prank funziona Lo vedrete in questo caso che è stato un po' strano come è avvenuto non so neanche io da dire se è avvenuto o no Comunque nel caso iscrivetevi mi raccomando e condividete perché è un video a mio parere belli prank e robe così insieme con le altre persone E attivate la campanellina per non fare dei passi video Ho detto questo ci passiamo al video Ragazzi abbiamo visto questo nuovo video Ho chiesto di venire un attimo Aspettate un bel pochino qua Ok Allora cosa faremo anche per un prank un mio amico Allora ti mostro Perché sono in ora a terra e stanno facendo robe Ho trovato questa roba Quindi io adesso spengo le luci perché non su mi nascondo qua Un attimo Ok Lui non sa che io ho la fotocamera e che sta facendo un prank Perché non glielo ho detto Cioè sa che volevo fare di un prank però non glielo ho detto quando e cosa E niente se ti può fare un... se prenderò le luci e tipo questo qua ti prenderà paura Però bisogna andare a rascondere alla fotocamera Quindi Tipo ho venuto qua così E poi ci metto questo davanti Così anche si vede tantissimo Poi Poi E poi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ho provato anche la scherzata con la videocamera. No, non lo ho fatto. Allora, non lo ho fatto bene il video. Cioè... Però... Allora, prima cosa, devo tirare via sta roba. Sto registrando sì, perché sto facendo prank. Uè, prankato. Però... Male, però ti ho prankato, dai. Cioè, tu ti piace un po' quello perché hai visto lo zenetto? No, ho detto, c'era la zenith allora che... Sapevo che eri là. Ma io da stupido ti sa che ho venuto dentro. Beh, più o meno, dai, non sei venuto dentro. Più o meno. Vabbè, allora, concludiamo il video maltrattando gli animali. E vai di copyright. Perché? Perché c'è il copyright nelle canzoni. Oh, non l'hai parte. L'hai fatta la zen. Ah, io non ti devo sentire. Ehi. Sì, ma che palle. È durato un po' questo video, buzzola. È colpa tua. Vabbè, comunque, era messo di poco dentro la videocamera. Eh, non potevi metterci un po' di più. È durato un po' questo video. Porca troppo. Non li facciamo? Non si... I prank devono essere veri, non si fanno finti, coglione. Ma che... No, 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 con due. Dai, fermo. Ah, dai, fermo, ah, dai, fermo, coglione. Ok, questa la taglio. Ah, dai, va buttato via. Ah, dai, va buttato via, sei scemo. Vai. Ok. Va bene. E niente, raga, ha fatto un prank. Ha funzionato. Adesso si stiamo qua. E niente, ha preso paura, tipo, perché l'ha fatto proprio, però l'ha buttato via con gli sti gran cazzo, i devorsi. Qua non c'è casino. Quella era già là. Quindi, io ho sistemato tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi, commentatevi per nuovi prank e nuovi vlog. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, condividetevi con tutti quanti e riuscire a prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.